Per la verità, quando vi ha detto che veniva da Nord Ovest, ho detto che speriamo che non sia dispiaciuto, è stata molto intelligente, poi suonata un sabato, siamo al sicuro. Buonasera, buonasera, benvenuti. Grazie. Perché a volte, in alcuni accenti, anche miei devo dire, tendiamo a parlare di Sud, ma noi pensiamo che l'Italia interna, c'è anche al Nord, io sono stato, tra l'altro, in quelle vallate, parlava lui, per esempio il problema dello spopolamento, sembra strano, ma è più una cosa del Nord che del Sud, semplicemente noi ne parliamo di più. Questa è la cosa curiosa, cioè i meridionali, ieri c'era un sitter che ha detto, ha fatto l'elogio del lamento, qualcuno l'ha rastendito, qualcuno ha detto, dobbiamo fare un lamento tecnologico, cioè, ha detto bene o male che ci sono le nuove cose, ci possiamo lamentare meglio. E quindi al Nord, in questo, non hanno questa grande attitudine, ma lo spopolamento dei piccoli paesi è molto, molto forte, delle montagne del Nord, questo è un elemento che ci accomuna. E quindi questo nostro stare qui, e quando io parlo male di Berlino, di... per me non è che parlo male di Berlinese, oppure non è una questione di identità, cioè io non siamo superiori a nessuno. Io direi che in certi luoghi, in certi momenti funzionano, meglio di atto funzionano. Cioè Parigi produceva delle merci, anche delle visioni, ha prodotto Baudelaire, Milano sappiamo cosa ha prodotto, sappiamo cosa ha prodotto Firenze, e in questo momento non so che Parigi cosa produce a livello culturale, non so nemmeno cosa produce Roma per esempio, per stare in Italia. Cioè Roma e Milano in questo momento sono il più grande problema che abbiamo, sono due città profondamente malate e profondamente incapaci di dare all'arresto dell'Italia spinge di qualsiasi tipo, cioè Roma e Milano sostanzialmente sono il nostro problema. Però non è che Roma e Milano noi li condanniamo, in questo momento non funzionano. E per le cose che vogliamo noi, per l'intensità, non ha un po' senso di andare a Milano, ma ha senso di andare a gorgoglione. Questa è nell'essenza la paesologia, dopodiché ognuno va dove cazzo vuole.